Andiamo, andiamo Giosuè, andiamo. Perché i cani e gli ebrei non possono entrare dopo? E loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli pare Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro per esempio non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa, là c'è un farmacista, no? Ieri ero fu un mio amico, un cinese che ha un canguro. Dico si può entrare? Dice no, qui i cinesi e i canguro non ce li vogliamo. No, gli sono antipatici, io, eh, chi ti ha detto? Ma noi liberiamo, possiamo entrare tutti. No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi ti ha antipatico a te? I ragni, a te. A me i fisicoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai fisicoti. E mi hanno rotto le scatole questi fisicoti, e basta.